Per quanto riguarda i nomi, il mio cavallo è Dandy, io sono Buster, Buster Scruggs. Buster Scruggs, il nano di Riata Pess, e senza le pistole. Vengo davvero da Riata Pess, che è nella contea di San Saba. Per quest'ovvia ragione, l'usignolo di San Saba è il soprannome che preferisco. Ma adesso dovreste cortesemente depositare l'arma al bancone accanto alle porte del saloon, poiché tenerle addosso come fate voi è una violazione del regolamento di questo esercizio, capite? È un'offesa alle leggi del posto. E se invece non volessi?